Ecco, si parla tanto di densità di impianti nella parte di Soave, in particolare qui stiamo andando verso la salita, verso Castelcerino. Eppure non ci si rende conto fin quando poi non si riesce a inquadrare l'ambiente, il territorio, venendo proprio a visitare la zona. È veramente una densità fittissima. Siamo anche in una delle unità aggiuntive, geografiche, tra quelle con diciamo relativamente media densità. Ce ne sono alcune, ce ne saranno alcune, magari vi testimonieremo più tardi, dove potrete anche vedere una densità superiore che rasenta quasi il 100%, il 90% e oltre. Incredibile, veramente è un territorio fantastico, un territorio unico nel suo genere. E per intanto vi devo salutare anche perché la salita incombe e non è molto adatto per correre in questa maniera. A dopo!